Anche il sindacato Snals boccia l'ipotesi di far slittare la riapertura delle scuole abruzzesi di una settimana avanzata dal direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale Pierluigi Cosenza. Il segretario regionale Carlo Frascari spiega che il nodo da sciogliere rimane quello del potenziamento dei trasporti. Siccome una cosa del genere ovviamente rimette in discussione una serie di questioni organizzative anche per le scuole del calendario scolastico, io direi che se ci sono dei motivi veramente importanti che ostacolano la riapertura già stabilita si potrebbe discutere, altrimenti non vedo la motivazione così. Se è una questione dice ma ci saranno più vaccinate, sì ma i vaccini fra breve adesso anche adesso si potranno fare senza prenotazione quindi uno può farli quando vuole se vuole farli sia i ragazzi e sia la rimanente parte esigua ormai del personale scolastico che non è ancora coperto. Quindi non credo che possa essere questa una motivazione valida. Uno dei nodi fondamentali per la nostra regione è l'alto numero di pendolari che si muovono in tutte le province e tra le province. Adesso questa notizia che ci sarebbero, ci sono insomma ci saranno 40 nuovi mezzi è una notizia importante. Ora è chiaro che bisogna riorganizzarlo ma noi insistiamo nel dire che quello è un aspetto che dà una sicurezza maggiore riguardo ai contagi perché lei capisce che all'interno del trasporto, dei pullman, i ragazzi difficili da controllare. Invece sono ben più controllati dentro gli istituti, questo lo dobbiamo ribadire. Non è semplice che un alunno si vada ad infettare dentro un istituto perché le regole sono tutte quante stabilite e sono tutte quante seguite dalle scuole in maniera precisa. Con grande sacrificio voglio dire di tutto il personale scolastico, dai dirigenti fino ai collaboratori scolastici. E questo lo possiamo dire veramente senza tema di essere smentiti. Invece poi dopo all'esterno dell'istituto, quindi nella fase trasporti, nella fase pre-post scuola, ci potrebbero essere e lì bisogna avere maggiore vigilanza. Uno dei fondi fondamentali secondo noi è stabilire un trasporto adatto a queste esigenze. Questa notizia a me pare molto importante. Speriamo che ci sia anche una buona organizzazione e ovviamente bisognerà collegarsi pure con le esigenze delle scuole.